Romani 13, questa mattina Romani 13, la lettera ai Romani, capitolo 13, leggiamo dal versetto 8 al versetto 10, Romani capitolo 13, leggiamo dal versetto 8 al versetto 10, l'Apostolo Paolo che continua e scrive, non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola, ama il tuo prossimo come te stesso, l'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Questa mattina ci troviamo di fronte a questi tre versetti, tre versetti importanti perché parleranno di un tema ed è questo, l'amore. Si parla molto di amore nel nostro contesto evangelico, ma attraverso questo brano vedremo che Paolo ci chiarirà che cosa significa davvero amare, amare biblicamente. La mia preghiera questa mattina è che ci sia da parte nostra la volontà e l'umiltà di riconoscere quanto siamo ancora lontani da questo amore o quanto dobbiamo ancora crescere in questo amore e lasciare che questo brano ci illumini, così come qualsiasi altro brano, per imparare ad amare in modo biblico. Ora abbiamo studiato questa lettera, versetto dopo versetto, abbiamo compreso che nei primi undici capitoli Paolo ha descritto l'essenza del Vangelo di Cristo. Paolo ci ha mostrato in che modo può l'uomo, ribelle, morto nei suoi peccati, essere riconciliato Dio. In che modo è possibile? Abbiamo compreso per la grazia salvifica. Dio nella sua volontà e sovranità ci ha chiamati a salvezza e ci ha donato la fede salvifica e ci ha amati in modo incondizionato. Paolo nei primi undici capitoli ha voluto descrivere cos'è il Vangelo. Ora dal capitolo dodici, ormai sappiamo questa memoria, Paolo ha iniziato questa seconda parte della lettera ai Romani, la seconda parte, e in questa seconda parte ora Paolo vuole parlare di quello che è il nostro cammino con Cristo. Paolo vuole parlare di quello che è la vita del cristiano. Prima cosa ha parlato del Vangelo, di Cristo, in che modo Dio ci ha riconciliati a sé e ora ci spiegherà, e ci ha già spiegati, in che modo il credente vive in modo conforme a quel Vangelo. Quel Vangelo che ci ha trasformati, che ci ha rigenerati, quella grazia salvifica, in che modo cambia la vita degli uomini. E Paolo descrive in che modo. Paolo ha iniziato al capitolo dodici, primi versetti, parlando della nostra totale consacrazione a Dio. E notate che ha iniziato esortando a presentarci a Dio in sacrificio vivente, santo e gradito. Ci ha esortato, ma ha detto qualcosa di cruciale per la sua misericordia. È solo per la misericordia di Dio che Dio ci ha donato che possiamo ubbidire a questi comandamenti, a questi insegnamenti. È solo per la sua grazia salvifica che è possibile fare ciò che Paolo ci insegna in questi versetti. È il non credente che è frustrato quando non riesce a vivere ciò. Ma il credente, salvato per grazia e consapevole delle sue mancanze, ma desidera. Desidera vivere ciò. Desidera riconoscere le sue mancanze. E Paolo ha esortato quindi alla consacrazione di questa continua trasformazione della nostra mente. Questa vita trasformata, grazie, dice, al rinnovamento della nostra mente. Dio che continua a trasformarci dopo averci salvati, ma Paolo esorta in modo pratico e inizia parlando dell'umiltà. Questo concetto sobrio che ciascuno di noi deve avere di sé. Inizia col parlare dell'umiltà. Ora, ciò è possibile solo per la grazia di Dio? È il Vangelo che ci porta ad essere poveri in spirito, umili. Dopodiché ha parlato dell'unità della Chiesa. Siamo un solo corpo in Cristo. Solo chi ha beneficiato dalla grazia salvifica fa parte di questo corpo in Cristo. E poi ha parlato anche dell'esercizio fedele dei doni spirituali per l'edificazione reciproca. I doni che Dio l'ha argito per grazia lo scopo edificare gli uni gli altri. Dopodiché dal versetto 9 fino alla fine del capitolo 12, Paolo ha presentato alcuni tratti distintivi della vita cristiana. Paolo non solo descrive cos'è il Vangelo, ma vuole descrivere chi è il credente. E noi viviamo in un contesto in cui basta professare di conoscere Cristo per essere credenti, per essere battezzati. Ma Paolo si prende il tempo per descrivere qual è il cammino del credente e parla della santità. Parla dell'amore sincero, un amore reale che i credenti hanno. Parla di questo zelo nel nostro cammino anziché essere pigri. Parla di perseverare nelle prove in Cristo, parla del servizio, servire gli altri e parla anche dell'amore per il nemico. Paolo ha descritto alcuni tratti distintivi che riguardano questi temi importanti, che contraddistinguono il credente, che è trasformato da Dio. La sua opera salvifica si manifesta con una nuova vita. Questi tratti distintivi. Non solo Paolo ha proseguito al capitolo 13, abbiamo visto la scorsa domenica, nei primi sette versetti ha parlato della nostra sottomissione alle autorità governanti. Un altro aspetto importante, questa sottomissione alle autorità governanti. Perché sottomessi? Perché è Dio che ha stabilito le autorità. Dio è sovrano sulle autorità governanti. È Lui che le ha stabilite. E quindi chi resiste all'autorità si oppone a Dio. Pensate quale responsabilità? La sottomissione contraddistingue il credente. E non solo per quanto concerne le autorità governanti, ma anche abbiamo visto in altri ambiti, sottomessi gli uni agli altri, la sottomissione agli anziani di chiesa, la sottomissione della moglie al marito, i figli e i genitori, i servi ai padroni, e poi personalmente a Dio. La sottomissione contraddistingue la vita dei cristiani. In questo contesto Paolo si focalizza sulle autorità governanti. La nostra sottomissione è persino descrive quello che è il compito delle autorità. Sono ministri di Dio, sono suoi servi per punire chi pratica il male. E noi siamo chiamati a sottometterci, a fare il bene, ad essere dei testimoni in questo mondo dove c'è tanta insubordinazione. Sottomessi però non solo per motivo di timore, per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Una sottomissione che è dovuta a quello che Dio ci insegna. Non solo per timore di essere puniti, ma per motivo di coscienza, perché ciò è giusto. Questo è quello che Dio ci insegna. Questo caratterizza la vita del credente. E poi termina parlando di questo tema, il pagamento delle tasse. I credenti che vogliono pagare le tasse, sanno che facendo ciò si sottomettono alle autorità che Dio ha prestabilite. Infatti sentite quello che disse Paolo, versetto 7. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto. L'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. E tutto questo senza condizione. Ecco in che modo dimostriamo la nostra sottomissione. Sottomettendoci, facendo il bene, rispettando, onorando le autorità e pagando anche le tasse. E quando faremo ciò, saremo dei testimoni della grazia di Dio. Ecco in che modo testimoniare della gloria di Dio, con una vita trasformata, che comporta anche questa sottomissione alle autorità. Ma adesso Paolo, dal versetto 8 al versetto 10, nel capitolo 13, torna ad un tema di cui ha già parlato, al capitolo 12. A parto dell'amore, sia senza ipocrisia, un amore fraterno, intenso. Ma ora dal versetto 8 al versetto 10, Paolo parla dell'amore e ne parla in modo particolare. Notate, in questi versetti, Paolo unisce, associa due aspetti, e sono questi, l'amore e la legge. Paolo associa due aspetti, unisce l'amore alla legge. Sono due aspetti che spesso vengono considerati contradditori. E secondo alcuni, se c'è l'amore non ci sono i comandamenti. come se l'amore potesse eliminare i comandamenti. Ma secondo Paolo, l'amore e la legge sono in perfetta armonia. Paolo vuole istruirci questa mattina, attraverso questa lettera scritta ai romani, Dio vuole istruirci attraverso questo messaggio per comprendere cosa significa amare biblicamente. Vogliamo comprendere cosa significa amare biblicamente e non avere un'idea dell'amore soggettivo, relativo, o un certo buonismo che tollera il peccato, perché Paolo associa l'amore ai comandamenti. E vogliamo capire cosa intende dire Paolo. Vedremo due parti in questi versetti, due parti. La prima parte, il debito perpetuo dell'amore. Paolo parla di questo debito continuo, perpetuo dell'amore. E poi vedremo che Paolo ci presenterà l'amore come l'adempimento della legge. L'amore è l'adempimento della legge. Iniziamo con la prima parte, il debito perpetuo dell'amore. Versetto 8, la prima parte. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Qui Paolo sta esortando, questo è un imperativo. È un imperativo. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Paolo qui non sta condannando il prestito o il mutuo. Infatti se andiamo in Matteo, in Matteo capitolo 5, Gesù disse, 42, da chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te non voltare le spalle. Paolo non sta condannando il prestito, no. Paolo esorta a non avere debiti, a pagare ciò che è dovuto nei tempi stabiliti e in pieno. A restituire il prestito ricevuto, a non avere debiti. Sapete, può diventare uno stile di vita avere debiti. Ma qui Paolo vuole esortarci a non avere debiti con nessuno. Letteralmente non abbiate nessun debito con nessuno. il cristiano è caratterizzato dal desiderio di non avere alcun debito. Per lui è una priorità pagare i debiti. Per lui è una priorità restituire il denaro. Non è una cosa secondaria. Tra l'altro, versetto 7, quando Paolo disse rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, il termine dovuto lì è debito. Abbiamo un debito che è pagare le tasse, rispettare, onorare. E ora qui dice non abbiate altro debito. Sì, il dovere di rispettare, onorare, pagare le tasse, ma per quanto riguarda i debiti, denaro. Il posto Paolo dice non abbiate debiti, di qualsiasi tipo. Nessun debito. Pagate in pieno. Restituite il denaro prestato in qualsiasi altra cosa. Questo caratterizza noi credenti. E Paolo esorta. È un nuovo stile di vita per noi. Essere privi di debiti. Essere pronti a dare ciò che è dovuto in pieno e nei tempi stabiliti. Questa è la testimonianza che dobbiamo rendere in questo mondo. Ma c'è un'eccezione. C'è un'eccezione. Dice infatti non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. C'è un solo debito che è perpetuo, continuo, che non potremo mai estinguere. C'è un solo debito nella nostra vita che non potremo mai estinguere. Perpetuo. Ed è questo. Amarci gli uni gli altri. Amore. Saremo sempre in debito nei confronti degli altri. Questo obbligo di amarci gli uni gli altri. Paolo ha già parlato di questo amore, un amore sincero, questo amore fraterno, ma qui evidenzia la grandissima responsabilità di amare. È un debito, è un obbligo. E qua dice di amarci gli uni gli altri. Parla dell'amore tra fratelli, ma vedremo anche dopo che parla dell'amore anche per il prossimo, il non credente. Infatti dirà letteralmente perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Parlerà di questo amore per il prossimo. Non solo l'amore tra credenti, ma l'amore per i non credenti, per il mondo. Paolo evidenzia quindi che l'amore verso gli altri è un dovere, è una responsabilità, è un obbligo, è un debito. Paolo usa questo terminologia. Non è un'opzione. Non è una scelta amare. Una scelta condizionata. non amiamo come credenti in base alle circostanze, in base a chi si trova davanti a noi, se è amabile o no. No. Non è questo l'amore biblico. Questo è l'amore del mondo. Questo è l'amore carnale. Un amore condizionato. L'amore biblico è un debito, è incondizionato. E sappiamo anche perché? Perché noi siamo beneficiari dell'amore di Dio. Ricordiamoci che Paolo ha iniziato al capitolo 12 questa parte della lettera dedicata alla santificazione, dicendo per la misericordia di Dio, alla luce del suo amore, del Vangelo che Paolo ha presentato noi ora in Cristo, possiamo e dobbiamo amare incondizionatamente. È una responsabilità. La scrittura si parla di amore e voglio mostrarvi alcuni esempi. Per esempio Paolo, abbiamo già visto l'amore sia senza ipocresia, capitolo 12. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Ma ci sono molti altri brani in cui si parla di amore. Molti altri brani, per esempio in Giovanni 13. Giovanni capitolo 13. Ascoltate quello che Gesù disse. Quello che Gesù disse. 13, 34, 35. Io vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Gesù ha mostrato che l'amore caratterizza i carenti. Coloro che hanno beneficiato dall'amore di Dio, della sua misericordia, ora si amano. E da questo conosceranno che siamo suoi discepoli. Ma ci sono molti altri brani. Per esempio in prima Giovanni, la prima lettera a Giovanni. Giovanni che mostra e descrive chi è colui che è nato di nuovo e dice al capitolo 4, versetto 7, carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Vedete, l'amore caratterizza, l'amore biblico, i figli di Dio, coloro che sono nati da Dio. Non è l'amore di questo mondo. Il mondo non può amare in modo incondizionato, non può amare in modo biblico perché non è nato da Dio. Ma chi ama dimostra di essere nato da Dio. Versetto 11, carissimi, se Dio ci ha tanto amati anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Gli uni gli altri. Ci sono molti altri versetti che potremmo leggere. La scrittura parla di questo amore ed è un amore incondizionato. È un debito, come Paolo dice, è un debito che abbiamo nei confronti degli altri. Gli uni verso gli altri. Non abbiate altro debito se non di amarvi gli uni e gli altri. L'amore è un debito, è una responsabilità. Non potremmo mai estinguerlo, non potremmo mai arrivare a dire ho perso la pazienza, fratello. No! Ma questo perché? Perché Dio ci ha amati. I Romani 8, quando Paolo presenta il Vangelo, Romani 5 anzi, versetto 8, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. L'amore di Cristo che è in noi, che è stato sparso nel nostro cuore, versetto 5, è questo amore che ci porta ad amare in modo incondizionato. È un debito, un debito, una responsabilità che abbiamo. E in questo modo saremo una testimonianza del Vangelo di Cristo. Paolo ha presentato il Vangelo nei primi undici capitoli e ora esorta ad amare in modo biblico. Perché? Perché grazie alla Sua misericordia noi ora possiamo amare. La vita dei credenti, la nostra vita, è caratterizzata da quest'amore. Sapete, se considerassimo queste parole, questo versetto, non ci sarebbero divisioni, non ci sarebbe ira in mezzo a noi, non ci sarebbe maldicenza. Se considerassimo questa esortazione, la marci, senza debito, non ci sarebbero divisioni. Mai qualcuno che direbbe o che adesso non ti parlo più perché ti sei comporto male, o che forse non lo dice ma si comporta in modo tale, è impossibile per colui che è in Cristo. E qui Paolo infatti ci esorta, ci esorta. Ora Paolo quindi presenta l'amore come un debito. La domanda è, per quale ragione? Perché Paolo presenta l'amore come un debito? Perché usa questa terminologia? Se passiamo alla seconda parte di questo sermone, dove Paolo parla dell'amore come l'adempimento della legge. L'amore è l'adempimento della legge. Paolo ci spiega perché è un debito. L'amore è l'adempimento della legge. Dice questo, non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Perché? Chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Ecco perché è una nostra responsabilità. Ecco perché deve caratterizzarci. Ecco perché è un debito. Perché chi ama, in modo biblico, ha adempiuto la legge. Qui comprendiamo che l'amore di cui parla non si riferisce solo all'amore per i fratelli, ma anche per il prossimo, perché dice perché chi ama il prossimo, dal greco perché chi ama l'altro. Non solo i fratelli, ma anche il mondo. L'amore per il prossimo, per il mondo. Gesù ha parlato di ciò. Veramente, Matteo 5, 44, il sermone sul monte, Gesù disse queste parole. E sotto 44. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. Amate i vostri nemici. E Paolo ci ha mostrato questo, Romani 12, dal 17 in poi, e così anche il 14, benedire coloro che ci perseguitano. Questo amore nei confronti dei nemici. Quindi l'amore non è semplicemente tra credenti, ma anche per il mondo, per i non credenti. Perché? Questo amore è un debito, è un obbligo. Perché questa responsabilità? Perché l'amore, colui che ama il prossimo, ha adempiuto la legge. Colui che ama il prossimo, ha messo in pratica i comandamenti. Questo può sembrare molto strano in un contesto nostro, anche evangelico, dove si parla di amore, ma non si parla di comandamenti. Quasi si scappa via dai comandamenti. Wow! Di cosa sta parlando? Paolo dice che l'amore, colui che ama, ha adempiuto la legge. L'amore biblico non si contrappone ai comandamenti, la legge. In realtà il vero amore è l'adempimento della legge. Questo non significa che riusciamo a mettere in pratica tutta la legge perfettamente, no assolutamente, siamo mancanti, lo sappiamo. Ma significa che il vero amore conduce alla pratica dei comandamenti. Il vero amore conduce all'ubbidienza. Si manifesta con la pratica dei comandamenti il vero amore. Paolo infatti spiega, versetto 19, ascoltate, infatti, infatti, qui cita alcuni comandamenti. Del Pentateuco, in Esodo 20, ci ricordiamo i dieci comandamenti. I dieci comandamenti ne cita solamente alcuni che riguardano il rapporto tra di noi, il rapporto con il prossimo. Quattro comandamenti e dice non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento. Quindi qualsiasi comandamento che riguarda la relazione con il prossimo, dice, si riassumono, si riassumono in questa parola, quale? Ama il tuo prossimo come te stesso. Levitico 19, 18. I comandamenti si riassumono in questa frase, ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. Questo è quello di cui sempre Gesù parlò in Matteo 22. Quando qualcuno gli chiese, Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. E poi disse, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Stesso messaggio. I comandamenti che si riassumono in questo altro comandamento, ama il tuo prossimo come te stesso. E il prossimo, a cosa si riferisce? Alla persona con cui abbiamo contatto nella nostra vita quotidiana. Luca 10. In specificato il prossimo. E la persona con cui abbiamo contatto nella nostra vita quotidiana. Qui parla di amare il prossimo come noi stessi. Attenzione, non dice di avere autostima, di innalzare a noi stessi, di poi amare gli altri. No, questa non è la psicologia. Paolo ha già messo in luce che dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi, essere umili. Quando dice, ama il tuo prossimo come te stesso, questo comandamento dell'Antico Testamento, sta dicendo questo. Ama il tuo prossimo come tu ami te stesso. La stessa cura che hai per te stesso, devi averla per il prossimo. Così come metti al centro i tuoi interessi, metti al centro dei tuoi interessi, che cosa? Il bisogno del tuo fratello o del non credente. Mettere al centro l'interesse del prossimo, il bisogno del prossimo. Paolo parla di questo ai filippesi, esorta questa umiltà. Non significa come te stesso, innalza te stesso, questa autostima. No. Sto mostrando che il nostro amore per gli altri deve avere lo stesso standard che c'è nella nostra vita personale. Il nostro amore abbiamo per noi stessi, la cura che abbiamo per noi stessi. Questo è un nuovo modo di vivere. Questo è il reale amore. Amare il prossimo come noi stessi. E sapete, amare in questo modo non c'è naturale. Paolo stai esortando. non c'è naturale amare in questo modo. Non è automatico. Ci vuole il nostro impegno. Noi che siamo in Cristo rigenerati possiamo fare ciò, ma dobbiamo impegnarci. Paolo ci esorta, è una responsabilità a questo amore. È colui che ama, addempie la legge. Sapete, questo amore non è un amore che si riferisce al sentimentalismo, semplicemente alle emozioni che dipendono dalle circostanze. Non è il buonismo che tollera il peccato. Quante volte capita di sentire qualcuno che dice non mi sento capita, ho capito, non mi sento amato. E questo perché qualcuno mette a luce il peccato. Ma quello non è il vero amore. Il vero amore è mettere a luce il peccato. L'amore vero adempia la legge. Mentre spesso quello che si vuole è un amore falso che nasconde la disubbidienza ai comandamenti. L'amore biblico non contrasta la legge, ma anzi si manifesta con l'ubbidienza ai comandamenti. Non tollera il peccato, ma anzi confessa il peccato. Colui che ama biblicamente mette in pratica i comandamenti. Infatti i comandamenti indicano in che modo amare. Se non ci fossero i comandamenti a quel punto l'amore è soggettivo, ognuno ama come vuole. Ma i comandamenti indicano come amare. In quali circostanze? Colui che ama quindi ubbidisce i comandamenti. Non uccidere. Non commette adulterio. Non rubare. Non concupire. Tanti altri comandamenti. Quando amiamo, se amiamo biblicamente non commetteremo queste cose. Anzi, confesseremo i nostri peccati. Quindi l'amore e la legge sono strettamente legati. Mentre invece spesso se ne parla come se fossero due cose che si contrappongono. Infatti aggiunge versetto 10 l'amore non fa male, nessun male al prossimo. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore biblico non è qualcosa di astratto. Non è qualcosa di teorico, di mistico. Tu dici io amo il fratello. Ma riguarda la relazione che abbiamo tra fratelli e sorelle e con il prossimo. Dimostreremo di amare biblicamente in base a come ci comportiamo. Qui dice l'amore non fa nessun male. l'amore biblico si manifesta con un nuovo comportamento, con una condotta. Infatti dice l'amore quindi è l'adempimento della legge. Paolo chiedisce che l'amore è l'adempimento della legge. Quando l'amore viene separato dalla legge cessa di essere vero amore. Cesserà di essere il vero amore e diventerà buonismo, sentimentalismo, semplicemente emozioni, un amore condizionato in base a come si comporta al prossimo, in base a quanto sia amabile o no. Ma l'amore biblico si esprime con un atteggiamento conforme ai comandamenti. È visibile l'amore biblico. L'amore biblico si manifesta con un atteggiamento conforme alla volontà di Dio. Io voglio mostrarvi alcuni versetti. Per esempio in Prima Corinzi 13. In Prima Corinzi 13 Paolo parla dell'amore. In quel contesto in cui parla di doni spirituali parla dell'amore e ascoltate come descrive l'amore. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita al male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Prima Corinzi 13 4. Questo è l'amore e come noterete è visibile, benevolo, non invidia, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita al male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questa è l'amore libri, si manifesta in modo pratico, in modo pratico. Paolo d'altronde ci ha mostrato ciò anche ai Romani 12, l'unità tra la Chiesa, l'unità della Chiesa, quest'amore tra di noi si manifesta come con l'unità, si manifesta come con l'uso dei doni spirituali per edificare il prossimo, l'amore si manifesta come saremo zelanti, vorremmo servire il fratello, anziché dire io ho altre priorità, io lavoro d'altronde, non ho tempo, no, quello non è amore per la Chiesa, per Cristo, per il fratello, se non c'è tempo per il fratello, l'amore si manifesta in modo pratico, ma attenzione, ma attenzione, la legge senza l'amore condurrà al legalismo, attenzione, amare non vuol dire obbedire i comandamenti semplicemente, no, la legge senza l'amore conduce al legalismo, all'ipocresia, semplicemente un fare, un fare, Paolo dice l'amore è l'adempimento della legge, non il contrario, l'amore è l'adempimento della legge, se c'è obbedienza senza focalizzarsi sull'amore ci sarà legalismo, formalità, ipocresia, l'amore è il cuore dell'ubbedienza, l'ubbedienza non riguarda semplicemente delle azioni che compiamo, ma riguarda il cuore, le intenzioni, le motivazioni e ciò che ci motiva ad ubbidire è l'amore, l'affetto per Cristo e i fratelli, così come il peccato, le azioni peccaminose che originano nel cuore, così anche l'ubbedienza deve originare nel nostro cuore, quando c'è quest'amore, quando c'è quest'amore reale e intenso che si manifesta come? Con l'ubbedienza dei comandamenti, con l'ubbedienza dei comandamenti. E Paolo chiedisce che l'amore biblico che dobbiamo avere per il prossimo non tolera il peccato, non è buonismo, ma al contrario desidera ubbidire i comandamenti. Infatti senza la legge, senza i comandamenti non ci sarebbero indicazioni su come amare. Ognuno amerebbe come piace, chi in un modo e chi in un altro. Sono i comandamenti, la luce che ci mostrano come amare in modo dettagliato. Paolo ci ha mostrato ciò al capitolo 12, in che modo amare in modo dettagliato. Abbiamo visto l'umiltà personale, l'unità della Chiesa, l'esercizio fedele dei nonri spirituali, un amore sincero, l'amore fraterno, il servizio e addirittura l'amore per il nemico e non solo. La sottomissione alle autorità governanti. Ecco come si manifesta l'amore. Non possiamo dire di amare Dio e amare le autorità, amare il prossimo se poi non c'è una vita che dimostra in modo pratico che stiamo davvero amando. Sapete, Paolo al capitolo 14 parlerà anche lì dell'unità della Chiesa e il rapporto tra fratelli, ma se non c'è questo amore, se non consideriamo l'amore un debito nei confronti degli altri, non potrà esserci unità, ma ci sarà semplicemente ipocresia, doppiezza. Saremo qui presenti fisicamente, ma non con il nostro cuore, non ci sarà affetto per i fratelli. Paolo ci mostra che l'amore è un debito che abbiamo nei confronti degli altri, è l'amore e l'adempimento della legge. L'amore e l'adempimento della legge. In questi pochi versetti questa mattina, tre soli versetti, Paolo si è presentato il Vangelo dalla grazia di Dio per molti capitoli, ma Ola vuole mostrarci cosa significa vivere come credenti in Cristo, cosa significa essere discepoli di Cristo e specificamente parla dell'amore. Cosa significa amare? Sapete, c'è tanto bisogno di questo brano nella nostra vita, nel nostro contesto evangelico. Si parla tanto di amore, ma un amore che contrappone, si contrappone la legge. L'amore di cui parla Paolo è un amore incondizionato. Non amare il prossimo significherebbe peccare. non amare il prossimo significherebbe peccare perché è un debito. Questo desidera colui che è in Cristo, riconosce di essere mancante, ma vuole crescere su questo, vuole impegnarsi. Colui che ha sperimentato la grazia salvifica. Ma attenzione, di quale amore sta parlando l'Apostolo Paolo? Paolo chiedisce, colui che ama adempie i comandamenti. colui che ama biblicamente, addempie, mette in pratica i comandamenti, l'amore e i comandamenti sono due cose che si uniscono. Non si contrappongono. L'amore e la legge sono perfettamente in armonia perché i comandamenti ci indicano come amare. Se non ci sono i comandamenti, noi non sappiamo come amare e diventa un amore mistico. io amo Dio e amo il fratello, amo il prossimo, ma non c'è poi una vita di obbedienza. Ebbene, quell'amore non è l'amore biblico. Se non ci sono i comandamenti, l'amore sarà soggettivo, relativo, ma la legge di Dio e anche i comandamenti del Nuovo Testamento ci indicano in modo pratico come amare. Quindi non separiamo l'amore dall'obbedienza perché altrimenti ci sarà la tolleranza del peccato anziché il pentimento. Sono invece i comandamenti in questi elementi che ci portano e che ci indicano in modo pratico come amare il prossimo, come amarci gli uni e gli altri. L'amore si manifesta quindi in modo pratico, è visibile nella relazione con gli altri. Non è invisibile, è visibile. Pensate a quello che Giovanni disse in Prima Giovanni 4. Prima Giovanni 4.20 Ascoltate quello che Giovanni disse. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, ovvero non ama suo fratello davvero, è bugiardo perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che chi ama Dio ami anche suo fratello. L'amore biblico è visibile e chi dice amo Dio se non ama i fratelli, se non dimostra ciò, è bugiardo. Questo disse l'Apostolo Giovanni. Questo disse l'Apostolo Giovanni. Amare Dio significa che cosa? Sottometterci alla sua parola, fare ciò che Egli dice senza giustificarci, confessando le nostre mancanze che sono tante, le nostre debolezze, ma con la prontezza di sottometterci a Dio. Ecco come dimostreremo questo amore. Gesù disse ai Suoi discepoli se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. Chi dice di amare Dio osserva i Suoi comandamenti. Non significa essere legalista perché quando serve quei comandamenti fa ciò perché ha affetto per Cristo, perché ama Cristo. La Cristo la sua vita dimostra ciò amando i fratelli, amando i comandamenti. E poi colui che ama il prossimo, se davvero ama il prossimo in modo biblico, dimostrerà ciò come? Mettendo in pratica gli insegnamenti della parola. Ecco come amerà biblicamente. quando mette in pratica gli insegnamenti della parola. È un debito? È un dovere? È una responsabilità? Non potremmo mai dire ho perso la pazienza. No, è un debito inestinguibile, perpetuo. È colui che ama, mette in pratica il comandamento. Colui che davvero ama, segue ciò che Cristo ci insegna le sacre scritture. Ora, come possiamo amare in questo modo? Incondizionalmente, in qualsiasi circostanza, anche nei mici abbiamo visto Romani 12, 17. Come possiamo amare in questo modo? Non è possibile. La risposta è molto chiara, è semplice. Romani 12, 1. per la misericordia di Dio. Avendo ricevuto la grazia salvifica e la grazia salvifica la potenza per amare in modo biblico. Solo se abbiamo ricevuto questa grazia sappiamo che possiamo amare incondizionatamente. Dio ci ha amato incondizionatamente, ha amato noi peccatori immeritevoli, ha dato suo figlio il quale si è incarnato per redimere peccatori. Lui crocifisso, Lui il giusto punito per noi peccatori. Questo è l'amore di Cristo. Per la sua misericordia noi possiamo amarci negli altri e amare chiunque. Amare chiunque amativo per la sua misericordia. Vorrei leggere due versetti per terminare. Paolo scrive agli Efesini, agli Efesini leggiamo anche quattro versetti in Efesini ascoltate quello che Paolo dice riguardo all'amore e cosa ci motiva ad amare in modo incondizionato. Efesini 4,31 via da voi ogni amarezza ogni cruccio e ira e calamore e parola offensiva con ogni sorte di cattiveria. Ecco come si manifesta l'amore. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Ecco come possiamo amarci gli uni e gli altri amare il prossimo in modo biblico perché siamo stati perdonati in Cristo e noi possiamo davvero perdonare davvero amare questo amore che si manifesta in questo modo benevoli e misericordiosi non è un amore mistico è un amore che si vede visibile ed è possibile a motivo del perdono di Cristo e poi prosegue l'Apostolo Paolo ascoltate bene Efesini 5 e 1 siate dunque imitatori di Dio perché siete figli dei due amati siamo suoi figli amati da Lui ed ecco perché è un debito l'amore verso gli altri ed ecco perché potremo amare in questo modo siamo figli dei due amati e poi dice e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi dice in offerta e sacrificio Dio quale profumo di odore so ave l'amore biblico è visibile è l'adempimento della legge è un amore che si sperimenta nella relazione con gli altri ed è dovuto a questo amore che noi abbiamo sperimentato l'amore di Cristo perdonati in Cristo amati da Lui Lui ha dato se stesso per noi e ora noi diamo noi stessi agli altri ora noi amiamo gli altri in modo visibile l'amore non è buonissimo l'amore Paolo dice è l'adempimento della legge si manifesta in modo pratico e visibile con l'ubbidienza dei comandamenti ecco cosa significa amare biblicamente che ci sia questo amore tra di noi e questo amore per il mondo per essere una testimonianza dell'amore di Cristo come potrà il mondo conoscere l'amore di Cristo se non vede noi questo amore e se non vede noi l'ubbidienza dei comandamenti come potremmo dire se sono un discepolo di Cristo ma poi non osservo i Suoi comandamenti questa è una grande contraddizione è in Cristo per la Sua misericordia possiamo fare ciò non in noi stessi non siamo in grado noi stessi ma per la Sua grazia in noi Lui che ci ha salvati per la Sua misericordia ora noi possiamo sì impegnarci ubbidire dai comandamenti e amare in modo biblico affinché possiamo essere una testimonianza fedele del Vangelo di Cristo quel Vangelo che ci ha trasformati trasforma la vita i peccatori e come risultato amano in modo incondizionato in modo biblico così ma come Cristo ci ha amati e come risultato e come risultato in modo biblico